ciao a tutti oggi con arianna andiamo a vedere un esercizio fondamentale a corpo libero per la parte superiore per i muscoli di spinta quindi parliamo di petto tricipiti spalle ovviamente cosa viene in mente i push up quindi i piegamenti sulle braccia come si eseguono se siamo un livello atletico più alto li possiamo fare tranquillamente senza ginocchia quindi mano larghezza spalle mento avanti e forma un triangolo perfetto molto bene contraendo addome glutei se invece ho un livello di forza leggermente indietro cosa faccio lo facciamo tranquillamente sulle ginocchia perfetto ancora uno sempre come distretti ottimo quindi cosa possiamo notare possiamo notare che avendo il carico interno è un gioco di leva quindi più la leva è favorevole più ci aiuta in questo caso le ginocchia più la leva è sfavorevole senza ginocchia più l'esercizio diventa impegnativo un consiglio che posso darvi è una volta macinate 4 5 serie da 10 12 12 ripetizioni con le ginocchia possiamo andare a ridurre il numero di ripetizioni e fare lavori senza senza ginocchia quindi dei push up completi così si migliora di forza e man mano cerchiamo di salire di volume alla prossima grazie a tutti ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto con ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito grazie a tutti